E ciao a tutti ragazzi, benvenuti oggi in questo nuovissimo video Non me l'avete chiesto in tanti, però ho voluto portarlo io Di mia volontà, questa è la top 5, perché non ho trovati altri Di giochi in pixel Si, in pixel Non della pixel art Ma fatti in pixel A me piacciono un sacco Al primo posto Ci sarà il mio gioco, diciamo Preferito dopo Minecraft, Roblox e Brawl Stars Vi lascio al video Quinta posizione Eccoci qua in quinta posizione Questo è il gioco Aurobone Lascerò tutti i nomi qua sotto E la cosa bella è che è più per Per telefono Così anche se vi stufate State aspettando la metro State, boh, facendo qualcosa Anche state aspettando A fare il tampone Adesso che siamo qui Ecco Potete giocare a questo gioco Vi rilassa Io l'ho messo in quinta posizione Perché ce ne sono di meglio Ma se voi volete Se voi volete Un gioco per telefono Molto bello Qua sono stupido io Molto bello Io ve lo consiglio Tantissimo Perché vi rilassa E se dovete aspettare qualcosa È bellissimo Quarta posizione E ragazzi Eccoci qua in quarta posizione Con questo gioco Che per me È bellissimo Ci sono cose Che non mi piacciono Tipo la grafica Non è Delle migliori In pixel art Ma vi assicuro Che vi divertirete Un sacco Inizia col tutorial Molto facile Vi spiega bene tutto E sì A mia sorella Li piace Un botto Ma davvero un botto Poi sì Ci sono pure i mostri Da uccidere Che io adesso Ho schivato E sono pure morto Ci sono anche Molti molti livelli Da Fare Diciamo E Potete arrivare fino Al 24 E poi Scoprire la sorpresa Io ve lo consiglio Sempre questo Da tablet È meglio Ma Se volete anche da telefono Non è Obbligatorio Da tablet Decidete voi Quarta posizione C'è questo gioco Qua Ciao Me ne vado Ciao Ciao Terza posizione Siamo in terza posizione Top 3 adesso E questo gioco Mi piace Un sacchissimo Molto per I I giochi che Da maghi Diciamo Si usa La magia Questo è L'attacco da vicino Poi Movimenti Bellissimi Palla di fuoco Molto Molto Anche originario E Sì Gli amanti Della magia Oh mio dio Che Quanti mostri Gli amanti Della magia L'ameranno Di sicuro Questo ragazzi Ve lo consiglio Tanto Tanto Perché È un gioco Molto Affascinante Diciamo In questo senso E A me È saltato Proprio All'occhio Poi ci sono Tante magie Da provare Certo No magia Con le carte Così Molto combattimento Per chi È un amante Anche del combattimento E Basta Questo Vi lascio Alla Seconda Posizio Seconda Posizione E ragazzi Eccoci qua Alla Seconda Posizione Questo gioco Mi fa Impazzire Di bestia Mi fa Bestialire Proprio Non Nel senso Arrabbiare Animazioni Cioè Sono le migliori Che ho mai visto Nella pixel art Poi sì Qua c'è tutta la storia Io l'ho schippata Il caricamento Quanto è bello E Cosa vi posso dire L'inizio È anche quello Iper bello Perché non posso picchiare Perché non posso picchiare Ok Adesso c'è l'attacco E È Molto bello Anche l'animazione Dell'attacco Sembra un po' In minecraft Solo in un altro Modo E Sì È Anche Cioè Sono tutte belle Le animazioni Cosa posso dire Sono tutte belle Vabbè Ve lo consiglio Questo qui È Un po' più Degli altri Perché È proprio Ce l'ho nel cuore Però Uno che ce l'ho nel cuore Di più È nella prima posizione Aia Perché non Devo colpire così Guarda È Sembra un po' Bravo Ancora È Sì Ma sono un grande Io Apriamo la cesta Oh ecco qua Ecco Faccio colpi critici Come in minecraft Cosa vuoi Cosa vuoi Ah Aia Eh Ti butto giù Eh Ci provi Eh Che stupido Ci prova Proviamo questo Questo Skip Tipo Forse per schiacciare La leva Ah no Aiuto Eh però L'ho fatto contro di lui Attivo Chiudo Attivo Chiudo Sì Che bello Che bello Che bello E adesso Passiamo Alla prima posizione Prima posizione E ragazzi Ci abbiamo Alla prima posizione Il mio gioco preferito In pixel art Dan De Men Poi vi lascerò Come avevo detto Prima Eh Tutti Eh Tutti i nomi Qua sotto Non vi lascio i link Perché non so come fare Quando sarò più tecnologico Lo farò E Eh Vi volevo solo far vedere Allora Ci abbiamo Questo qui Che è a pagamento Potete pagarlo Io ci gioco un sacco Però più da telefono E per quello che qua Non c'ho Mi Cioè È proprio all'inizio Inizio Questa è la storia Principale Eh È un È divisa in stage E Non so cosa dirvi Cioè Bellissimo Poi adesso Vi farò vedere Pure Il game Vi spiegherò Un bel po' di cose Ho sbagliato Perché stavo schiacciando La testa Solo che Ho sbagliato Sì Sì Ho sbagliato Devo schiacciare Uno e uno Ok Ok E adesso Il caricamento Super bello Anche quello Qui si ricomincia Di nuovo Poi è pure in italiano Capite meglio Qua c'è la storiella Ehi Ehi Fermo Dove facciamo Pace Oh ma cos'è Cos'è Questa tramposta Andiamo 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 Ehi Allora Andarmi Non so Sono videvate Aiuto Aiuto Ma perché voleva La mamma Quello lì Poi saltiamo Perché se no Ci mettiamo un sacco E Vabbè Basta Poi Qua C'è un po' di parkurito Non tutto Da combattere E adesso Sì Il pezzo Anche da combattere La mela Ti cura Dieci cuori Che sono quelli Che ti Infliggono Con un danno Ecco Adesso me l'hanno Inflitto Adesso io mi prendo La mela E sono full vita Guardate Eccomi qua Ecco Poi queste Si rompono Per prendere Soldi Che vi serviranno Per la skin O anche per Potenziamenti Del personaggio Poi Non mi ricordo Come si andava Là sopra E' un po' strano Un po' brutto Questo è il checkpoint E Non pubblicità Io non sponsorizzo niente Ve lo giuro Ve lo giuro Non sponsorizzo niente Questa qui Non voglio sponsorizzare Non ho niente Oh Che bello Che bello Che bello Ah si Ecco Questo è il checkpoint E poi Se questo rob Lo rompi L'ho scoperto da poco E Si Vi fa vedere Ancora Non sponsorizzo Una pubblicità Perché non posso Ecco E Ve lo sponsorizzo No Non ve lo sponsorizzo Cavolo Ok Calmo E parla Bene Dunderman È un gioco bello E Stavo dicendo Che quello lì Se voi avete poca vita Fate finta Che avete appena Sconfitto il boss O Siete appena Scappati dal boss Ecco In questo caso Mi ha dato le armi Ma Tante volte Quando Non c'avete La Non c'avete La vita full Ve la carica tutta In questo Guarda Guardate Che bello Spararli Ah Oh Che bello Questo qui Ti cura Venti Il cosciotto Poi Non dovete Cadere nell'acqua Perché è un gatto E ha paura Dell'acqua Il personaggio E il cosciotto Non si L'ho mangiato Non so perché Ah si Mi ha colato 10 Perché ragazzi Io avevo perso 10 Vabbè Questo gioco Super bello Per questo video È tutto Noi ci vediamo In un prossimo video E basta Ciao